Buongiorno, sono Noemi Grassi, ho 16 anni e vengo da Gambolò, un paesino in provincia di Pavia. Ciao a tutti, sono Merissa, ho 18 anni e vengo dal Piemonte. Ciao, sono Giada Loda, ho 29 anni e sono di Milano. Buongiorno a tutti, mi chiamo Letizia Turco, ho 19 anni e vengo da Torino. Ciao a tutti, mi chiamo Poliana, sono brasiliana e vengo da Vicenza, ho 18 anni. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Martina Marinelli, ho 22 anni e vengo da Udine, ma vivo a Padova. Sono Elenia Fontanini, ho 22 anni e vengo da Udine. Mi chiamo Giorgia Zaros, ho 22 anni e vengo da Colomberto, un paese in provincia di Treviso. Ciao a tutti, sono Emma Veritti, ho 19 anni e vengo da San Daniele del Friuli. Ciao, mi chiamo Alessia Azzurrini, ho 24 anni e vengo dalla Spezia. Sono davvero felice di essere qua. Buongiorno a tutti, sono Erika Januario, ho 18 anni e vengo da Pistoia. Buongiorno a tutti. Sofia Bolpagni, 22 anni, Brescia. Ciao a tutti, sono Simona Calabria, ho 27 anni e abito a Calvitano in provincia di Brescia. Ciao a tutti, sono Martina Potric, ho 26 anni e vengo da Rovereto in provincia di Trento. Sono Eva, ho 29 anni e vengo da Firenze. Ciao a tutti, mi chiamo Ginevra Sadalla, ho 19 anni e vengo da Carugate in provincia di Milano. Salve a tutti, sono Comotti Irene, ho 21 anni e vengo dalla provincia di Bergamo. Sono Maida Miriam, ho 19 anni e vengo da Bergamo. Ciao a tutti, sono Francesca Popa, ho 22 anni e vengo da Milano. Ciao a tutti. 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 Grazie.